Si chiama Una casa di pazzi e sta avendo un successo clamoroso, possiamo dire così. Ci racconta un po' di più di questo spettacolo? Allora, è un successo inaspettato in parte, perché il valore dello spettacolo era già... Noi abbiamo già fatto quanto due anni fa questo spettacolo, il pubblico l'ha già molto apprezzato. È stato un successo ottimo questa cosa. Allora, lo spettacolo parla... Si ride e si riflette. È uno spettacolo che parla di disagio economico, di disagio osale, problemi psichiatrici, tutto in un contesto assolutamente divertente e con un ritmo frenetico da un punto di vista comico. È di Roberto D'Alessandro, che è un allievo di Gigi Peroglietti, una penna importante del Teatro Brillante Italiano, che l'altra sera, durante la seconda replica, ci è venuto a trovare ed ha assistito allo spettacolo, e quindi ci ha fatto anche piacere questo. Il regista dello spettacolo è Giuseppe Scoglio e loro sono i pazzi dello spettacolo. E allora parliamo di questi pazzi, insomma, quanto siete contenti appunto di questo terzo sold out, perché andrà in scena appunto la terza volta venerdì? Allora, siamo contentissimi perché io sono orgoglioso di avere loro come i miei compagni di avventura. Sono bravissimo ognuno nelle sue doti, nelle sue doti attoriali, ma soprattutto di grande amicizia che abbiamo noi, tra di noi. Quindi parlo con Alice, che nello spettacolo è mia moglie, quindi Mario Alberta, Alessandro Maffei invece è mio fratello. Quindi lui è il pazzo vero e proprio della storia, è proprio lui, che una parte come lui è la parte più difficile dello spettacolo, tant'è vero che solo un attore come lui poteva farla, e quindi sono orgoglioso. E poi abbiamo Ginetta, che è l'inquilina del piano di sotto, che è un'altra pazza, che recita per tutto lo spettacolo in dialetto lucano. Quindi soltanto lei poteva fare questa cosa. Però si capisce, si capisce. Si capisce, si capisce, si capisce, si è molto divertente. Ultima cosa, c'è la possibilità di una quarta? Una quarta, una quarta sì, sicuramente. Ce lo auguriamo, anche perché comunque ci stanno ancora chiamando e li mettiamo in lista d'attesa. Quindi continuate a chiamare e vi faremo sapere se per caso si farà la quarta replica oppure no.